Sì, perché la voglia è sempre quella di vincere, forse non lo direbbero, ma siamo un po' meno, soprattutto in campo, tutto è velocello, è subiettivo, e quindi questa capacità mentale viene fuori e ci porta a vincere, a partire del genere, come qui. Oggi è stata una macchina? Sì, difficilissima, anche perché gli avversari erano tutti molto sperte e hanno sentato anche loro di vincere questo aeroporto, ma abbiamo fatto.